Ciao amici di Associazione Culturale Maggiolina, bentornati al corso di alfabetizzazione digitale. In questo video ci occupiamo dei programmi. Forse abbiamo capito sino adesso che noi stiamo utilizzando un computer, quindi dell'hardware, e che all'interno di questo computer fisico ci sono dei programmi. Uno di questi è il sistema operativo, quindi un programma speciale, Windows tra virgolette, che ci permette di usare il nostro computer, ci permette di dialogare con il nostro computer. Però non c'è solo Windows nel nostro computer, perché poi noi col nostro computer vogliamo scrivere, vogliamo disegnare, vogliamo navigare in internet, vogliamo fare fotoritocco, vogliamo fare un sacco di cose. Quindi ai nostri computer possiamo aggiungere successivamente programmi, Quindi applicazioni, non sistemi operativi, ma sempre programmi creati da terzi, quindi da aziende terze o persone terze a Windows, che fanno delle cose. Quindi io, sì, ho comprato il computer e fa queste cose qui, ma poi io posso integrare in questo computer altri programmi per fargli fare le cose che interessano a me. Recentemente in un video abbonati abbiamo visto la grafica vettoriale, io ho aggiunto nel mio computer un software, in questo caso gratuito, un programma, che mi permette di utilizzare la grafica vettoriale. Quindi anche tu nel tuo computer puoi andare a mettere programmi. Quindi vogliamo capire come si gestiscono questi programmi. È un po' il concetto delle app con lo smartphone, siamo già più abituati con lo smartphone. Compri il telefono nuovo, non c'è WhatsApp, installi l'app di WhatsApp. Questa è la stessa cosa sul computer. Compri il computer nuovo, ci sono un po' di programmi dentro, ma a te ne serve qualcun altro. Quindi li devi aggiungere. Però non puoi aggiungerne troppi, perché a un certo punto il computer sarà pieno, e quindi ti devi gestire. Aggiungi quello che ti serve, togli quello che eventualmente non ti serve, e quindi gestisci da solo il tuo computer. Tieni presente che nelle aziende, negli uffici e quant'altro, non ti è permesso fare questa cosa. Solitamente non ti è permessa per evitare di fare pasticci nel computer aziendale. Quindi non hai i privilegi per poter mettere e togliere i programmi. Ma sul tuo computer, sì, se tu sei la persona che ha acceso il tuo computer per la prima volta, che ha dato la password e tutto, tu lo puoi fare. Però devi farlo con attenzione. Quindi impariamo a gestire i programmi nel nostro computer. Innanzitutto andiamo a vedere dove sono. Dov'è che io posso andare a vedere i programmi che ho nel mio computer? Beh, nel menu di avvio, qui, e poi in tutti i programmi. C'è una voce, eccolo qua, lo chiama app Windows 11. Tutte le app, versioni di Windows precedenti, lo chiamano tutti i programmi. Quindi questi sono tutti i programmi presenti nel tuo computer. Guardiamo questo Camly, che è un programma che ho visto che non mi serve, perché adesso andremo a toglierlo. Quindi io sono qui, guardo tutti i programmi del mio computer, ed eccomi qua. Ci sono un sacco di programmi nel nostro computer. Alcuni hanno anche una freccina che si può allungare, perché magari nella voce di quel programma, questo ad esempio è LibreOffice, ci sono tanti sottoprogrammi, cioè si compone di un pacchetto di applicazioni diverse tra loro, e quindi tu ne trovi di più. Per cui quando ci sono le freccine devi anche allungare la freccina per vedere che cosa c'è dentro in quel caso lì. Questi sono tutti i tuoi programmi. Da qui forse potresti anche toglierli, però posso mostrarti una finestra più avanzata per fare questo. Vediamo se si possono togliere. Allora, io voglio togliere questo Camly. Vediamo alla C. Eccolo qua, se ci premo sopra col tasto destro, dice Disinstalla. Quindi io potrei toglierlo in un baleno. Dico Disinstalla e a posto così. Forse questo è il modo più semplice per farlo. Però, visto che tu hai bisogno di conoscere comunque il tuo computer, vogliamo sapere com'è fatto, andiamo in un'altra finestra più avanzata, dove ci sono più cose da poter fare. Allora, vado qui nel campo di ricerca di Windows e scrivo Installazione Applicazioni o Installazione Programmi. Vedi che qua c'è già scritto? Perché io recentemente, qui c'è scritto Recenti, recentemente ho guardato queste cose. Installazione Applicazioni. Se io lo scrivo qua, comincio a scrivere Install... Eccolo qua. Installazione Applicazioni. Nota che noi vogliamo togliere un programma, però qui lui mi dice Installazione Applicazioni, perché va comunque in una finestra dove posso fare un po' tutto. Quindi premo, raggiungo questa finestra, che è del pannello di controllo. Quindi questa è una finestra di gestione del computer. E qui ci sono in ordine alfabetico tutti i programmi installati nel tuo computer. Qui c'è un elenco più completo di quello che abbiamo visto prima, perché qui ci sono anche programmi che non vedi in quell'elenco, perché il computer utilizza per motivi suoi in determinate situazioni. Quindi qui siamo in un posto più avanzato, perché vedi più cose. Allora, impariamo una unica cosa per prima. E questo te lo dico bene, perché è fondamentale. Non si tolgono dal computer programmi che non sai a cosa servono. Ma questo CapCut cos'è? Ma non mi serve. Via, lo tolgo. Assolutamente no. Non è il modo di fare spazio. Se togli una cosa e non sai esattamente cos'è, cosa fa, cosa serve, tu rischi, per non dire tu, hai la certezza che nel tuo computer hai fatto un danno, hai tolto qualcosa che serviva. Si può rimettere, certo, però bisogna essere capace, bisogna andarlo a trovare, c'è da perdere un sacco di tempo, magari non ti riesce, devi andare dal tecnico e anche lui non è detto che riesca a trovarlo, eccetera, perché magari tu non gli sai dire che cos'è, non sa dove prenderlo, eccetera, e quindi grande perdita di tempo. Per cui, sì, togliamo i programmi che non ci servono, ma togliamo solo quelli di cui conosciamo esattamente la funzionalità. Diversamente stiamo fermi. Non vanno nel cestino. Quando io ho tolto un programma non c'è più e quindi potresti non essere in grado, come detto prima, di reinstallarlo, perché magari è a pagamento, perché lo devi andare a prendere da qualche parte, ma l'installazione dei programmi la vedremo in un secondo momento. Adesso io tolgo questo Camly che avevo installato tanto tempo fa, qui dice l'8 novembre 2022 per fare un video. Da allora io so di non averlo più usato, perché quando l'ho visto oggi mi sono detto ma cos'è questo? Come ho fatto a sapere a cosa serve, eccetera, eccetera? Sono andato nel menu di avvio, sono andato in tutte le app e sono andato a cercare questo Camly e poi l'ho aperto. Così mi sono reso conto di cosa si tratta. Non sempre è possibile farlo, nel senso che qui troverai in elenco tanti programmi dal nome strano che poi non troverai nel menu delle applicazioni, eccetera. E quindi non saprai di cosa si tratta. Quelli sono quelli da tenere sempre. Per cui, ripeto, adesso impariamo a cancellare un programma, non metterti a fare pulizia nel tuo computer perché dici dai, devo liberare spazio, via, 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 via. No, calma. Il tuo computer continua a funzionare bene come adesso fin quando non avrai la capacità di dirti sì, effettivamente questo non mi serve, lo posso cancellare. Io direi che ci sono su questo programma almeno occupa pochissimo spazio questo 38 megabyte è pochissimo ma lo tolgo. Non voglio avere cose inutili nel mio computer. Tre pallini, disinstalla e il computer adesso mi dice questa app e le relative info verranno disinstallate. Cosa importante, se questa app io l'ho utilizzata per creare qualcosa, che so, questa è un'app di disegno, di foto, per mostrare le foto, eccetera, ma se fosse un'app di disegno e io l'avessi usata per disegnare qualcosa, ho disegnato, ho salvato quello che ho disegnato in documenti, in immagini, da qualche parte nel mio computer. Togliendo l'applicazione sparisce anche il lavoro che ho fatto? No. Questa app è lo strumento che ti permette di creare qualcosa. Tu togli lo strumento ma quello che hai creato esiste ancora. Sei uno scoltore. Martello e scappello scolpisci un leone. Botti via martello e scappello ma il leone ti resta. Devi buttarlo a parte. Nel caso del computer, il tuo leone, quindi quello che hai creato, potrebbe non essere più utilizzabile. Ce l'hai ma solo quell'applicazione lì poteva aprirlo, per esempio. E quindi potrebbe diventarti inutile. Ma in realtà ci sono tante applicazioni che aprono le stesse cose quindi se tu togli un programma di scrittura il libro che hai scritto comunque rimane nel tuo computer e lo puoi leggere con qualcosa d'altro. Lo puoi leggere e modificare con qualcosa d'altro. Ad esempio lo hai scritto con Word, lo leggi con LibreOffice o con Google Documenti. Ci sono tante possibilità. Comunque adesso sono certo che non voglio più questo Cambly. So esattamente di cosa si tratta. so quello che faccio e lo disinstallo. Ho dato conferma e adesso tra qualche istante Cambly se ne va. Ci impiega tanto ci impiega poco a fare questa operazione. Questo è stato il tempo reale. A volte ci impiega di più a volte ci impiega di meno a seconda del programma che stai utilizzando. Bene, io adesso mi guardo attorno ad esempio questi due programmi qui questo so esattamente cosa fa questo anche questo ce l'ho un po' in prova e quindi lo tengo lì perché magari te lo voglio mostrare in un secondo momento e quindi non è detto che tutto quello che ci sia nel mio computer è esattamente una cosa che mi serve sempre però ci sono volte in cui mi serve. Ecco ad esempio questo è un programma che serve a farne funzionare altri legati al mondo video. Se io lo tolgo e perché dico non serve a niente non so cos'è ok sparisce però poi altri programmi legati al mondo video non funzionano più perché avevano bisogno di questo programma integrato in Windows per avere un ambiente completo per poter fare le loro cose. Quindi attenzione a questo. Gimp è un programma che utilizziamo per disegnare 1,17 gigabyte è abbastanza grande e lo vedremo installeremo eccetera e qui ci sono un sacco di programmi quelli particolarmente importanti sono questi questi sono programmi che tu non vedi mai nel tuo computer nel senso che tu non vedi in giro non puoi avere l'icona da aprire eccetera ma non li devi assolutamente togliere perché sono aggiornamenti sono cose che servono a far funzionare altro nel tuo computer ti vengono mostrate qui perché tu hai il controllo del tuo computer però tu devi anche avere la capacità di fermarti e dire non so che cos'è questa cosa e quindi non metto mano. un'altra cosa che voglio togliere è questo Mozilla Firefox è un programma che serve per navigare in internet se io voglio navigare in internet posso usare Mozilla Firefox o altri nel mio computer ne ho più di uno di questi programmi per navigare in internet si chiamano browser e quindi vedremo come si fanno a mettere e quant'altro adesso ne tolgo uno di questi quindi questo Mozilla Firefox lo tolgo perché successivamente in un video futuro andremo a metterlo quindi andremo anche a imparare come reperire i programmi che ci servono e come installarli caricarli nel nostro computer quindi tolgo Mozilla Firefox ti faccio notare che Mozilla Firefox è qui nell'elenco delle app installate è qui sulla mia barra delle applicazioni per essere veloce nell'apertura è qui nel menu di avvio tutte le app alla F o alla M Mozilla ah no alla F come Firefox perché è un programma a disposizione del mio computer togliendolo dovrebbe sparire da tutte le parti quindi per togliere i programmi si fa alla stessa maniera per tutti quanti tre pallini disinstalla mi viene chiesto se sono sicuro perché è un'operazione che cambia il modo di funzionare del tuo computer quindi ti viene chiesto sono sicuro dico disinstalla qui c'è una schermata nera che per te è nera ma per me ha una schermata che posso vedere e c'è scritto vuoi consentire a questa app di apportare modifiche al dispositivo ti sta dicendo che questo è un cambiamento importante del tuo computer stai per togliere qualcosa sì sono stato io a dare questo comando dico sì e adesso il computer prosegue mi appare una schermata con scritto perché non provare a ripristinare firefox lui non vuole andarsene dice no ma perché mi togli voglio stare con te no io sono certo e quindi dico avanti e siamo a posto quindi il programma si disinstallerà però ancora dice ma il programma verrà disinstallato dal seguente percorso ti dice sicuro guarda che se ne va poi non lo vedi più sì lo voglio disinstallare tanto poi in un prossimo video mostrerò come rimetterlo disinstalla ed ecco qua questa procedura come vedi è impiegato un pochino di più completamento procedura di disinstallazione di firefox se ne è andato qua dall'elenco vediamo cosa mi dice fai sapere a mozilla perché hai disinstallato firefox potrei mettere il check cliccare qui dentro e quando premo fine mi appare una schermata che va a mandare un messaggio ai creatori di firefox per dirgli perché l'ho tolto semplicemente no a loro chiaramente interessa sapere perché l'ho tolto non funziona bene non mi piace eccetera eccetera per avere un'idea di quello che succede ma noi abbiamo fatto un esperimento poi lo rimettiamo e quindi va bene così quindi tolgo il check che avevo messo dico fine e adesso mozilla firefox non c'è più nel mio computer quindi non c'è più qui sulla barra delle applicazioni non c'è più qui nel menu di avvio tutte le app alla f avevamo detto firefox eccolo qua che non c'è più è stato tolto dal mio computer non è più a disposizione del mio computer non posso recuperarlo dal cestino se lo voglio rimettere devo andare esattamente a prenderlo dove è e quindi devo andare a cercarlo devo sapere come fare eccetera e questo lo faremo in un video successivo cosa importante ho tolto un programma dal mio computer questo programma è sparito non ha lasciato alcuna traccia ma eh sì qualcosa è rimasto è come quando tu metti un chiodino nel muro e appendi un quadro il quadro sta lì degli anni quando togli il quadro lo butti via il quadro non c'è più non ce l'hai più ma sul muro è rimasta traccia del quadro un po' perché il colore è più vivido sotto più sbiadito sotto un po' sporchino è un po' perché comunque c'è il chiodo togli il chiodo resta il buco quindi nel tuo computer comunque un po' di traccia di installazione del programma rimane non ci interessa più di tanto nel senso che io ho messo il programma e ho tolto il programma basta resta un buchino di un chiodo piantato che è venuto via tranquilli tutto a posto cosa succede però che come a casa tua se metti 100.000 quadri e togli 100.000 quadri e metti 100.000 quadri e togli 100.000 quadri poi il muro è una groviera quindi non è più bello a un certo punto devi intervenire la stessa cosa avviene per il computer questo piccolo chiodo o il buco del piccolo chiodo che è rimasto ha lasciato un segno nel sistema operativo Windows e quindi qualche scritta qua e là e se tu fai questa operazione tante 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 volte il tuo computer a un certo punto funziona meno bene Windows è un po' sporco pieno di robe strane eccetera eccetera non è bello fluido non funziona più benissimo quindi ogni tanto ma possiamo parlare anche di anni se lo usi correttamente va ricaricato va ripristinato va sistemato Windows quindi non devi continuare a mettere programmi eccetera non è che devi farti problemi però neanche prendere tutto quello che c'è prova metti, strogli, metti, vai, fai eccetera perché comunque qualcosa resta nel tuo computer quindi lo fai per cose che pensi che ti servano e quindi lo fai tranquillamente non prenderlo come la voglia di mettere tutto quanto questo secondo me ci sono persone che fanno così e vanno avanti comunque lo stesso bene mi auguro che questo video ti sia piaciuto qui sotto trovi il pollice in su per dire che ti è piaciuto premilo per favore iscriviti al canale se ancora non lo hai mai fatto così sarai avvisato all'uscita dei prossimi video e poi fai vedere che il canale Associazione Maggiolina è utile quindi grazie e se ti va abbonati al canale YouTube Associazione Culturale Maggiolina per vedere anche i video della serie speciale riservata agli abbonati ce ne sono tanti a disposizione e mi auguro di vederti presto tra gli abbonati ci vediamo presto ciao ciao